Benvenuti su Whispers of Wisdom, il tuo spazio dedicato alla crescita interiore e alla consapevolezza spirituale. Oggi ci immergeremo nel cuore pulsante della nostra energia vitale, il Manipura, il chakra del plesso solare. Questo potente centro, situato nell'addome, è il custode del nostro potere personale e della nostra forza di volontà, elementi essenziali per affrontare la vita con determinazione e sicurezza. Immagina di essere circondato da una luce gialla brillante che rappresenta la tua energia vitale. Questo è il segnale di un plesso solare in equilibrio. Quando il tuo Manipura è attivo e forte, ti senti invincibile, pronto ad affrontare qualsiasi sfida ti si presenti. Senti un'ondata di appagamento e realizzazione che scorre attraverso di te, spronando a prendere decisioni audaci e a perseguire i tuoi sogni senza esitazione. Tuttavia, quando questo chakra è in disequilibrio, il paesaggio emotivo cambia drasticamente. La rabbia e il giudizio possono infiltrarsi nel tuo essere, intossicando la tua autostima e portando a dubitare delle tue capacità. È in questi momenti che la tua forza di volontà può vacillare, lasciandoti intrappolato in un ciclo di insicurezza e frustrazione. Oggi, insieme, esploreremo come mantenere il tuo Manipura in equilibrio, affinché tu possa vivere una vita piena di potere e realizzazione. Ogni parola che ascolterai, ogni concetto che condividerò con te è un passo verso la tua rinascita. Unisciti a me in questo viaggio per risvegliare la forza che risiede dentro di te, per liberarti dalle catene dell'autosabotaggio e per ritrovare la tua vera essenza. Prima di iniziare, ti invitiamo a iscriverti al canale Whispers of Wisdom, attivare la campanellina per non perdere i nostri contenuti e lasciarci un like per supportare il video e il canale. Non dimenticare di commentare per condividere la tua esperienza e per connetterti con la nostra comunità di ricerca interiore. La tua trasformazione inizia ora e sono entusiasta di condividere con te il potere del Manipura e come può cambiarti la vita. Il potere di Manipura in equilibrio. Il Manipura, il chakra del plesso solare, è la sede della tua forza interiore, ma il suo potere può facilmente diventare un'arma a doppio taglio se non viene mantenuto in equilibrio. Quando questo centro energetico è in disequilibrio, la tua vita può trasformarsi in un campo di battaglia interiore. La rabbia, il giudizio e la bassa autostima diventano i tuoi compagni di viaggio. Le piccole frustrazioni quotidiane si trasformano in tempeste emotive, in cui ogni parola non detta o ogni sguardo di troppo si carica di un significato pesante. In questi momenti, ti senti vulnerabile, impotente e costretto a difenderti da un mondo che percepisci come ostile. Questo squilibrio non solo ti allontana dalla tua vera essenza, ma ti spinge a costruire muri attorno a te, portando a vivere in uno stato di isolamento e insoddisfazione. Ma non è la fine della storia. Quando il Manipura è in equilibrio, sperimenti una trasformazione radicale. La rabbia che un tempo ti consumava si trasforma in energia creativa. Il giudizio diventa comprensione e la bassa autostima svanisce, lasciando spazio alla tua autentica grandezza. Immagina di svegliarti ogni giorno avvolto da una luce calda e brillante, con la consapevolezza che ogni decisione che prendi è radicata nella fiducia e nella certezza. Questa è la potenza del plesso solare in armonia, un potente alleato che ti permette di affrontare le sfide con coraggio e determinazione. Per riportare il tuo Manipura in equilibrio, è fondamentale dedicare tempo alla consapevolezza e all'introspezione. Inizia a praticare esercizi di respirazione profonda, che ti aiuteranno a riconnetterti con il tuo corpo e a sentire la sua energia. Immagina di inspirare una luce gialla brillante che riempie il tuo addome e di espirare ogni negatività e dubbio accumulati. Questa visualizzazione non è solo un esercizio mentale, ma un vero e proprio risveglio della tua energia vitale. Incorpora anche pratiche di meditazione focalizzate sul plesso solare. Siediti in un luogo tranquillo e visualizza una sfera di luce gialla che si espande e contrai nel tuo addome. Lascia che questa luce si diffonda attraverso il tuo corpo, irradiando calore e positività. Durante questi momenti di calma, ripeti affermazioni positive. Io sono forte, io sono capace, io merito di brillare. Queste parole non sono solo frasi da pronunciare, sono semi che pianti nel tuo subconscio e con il tempo fioriranno in una vita piena di autenticità e realizzazione. Ricorda, il potere di un chakra equilibrato risiede nella tua volontà di affrontare le tue emozioni e di coltivare la consapevolezza di te stesso. Abbraccia la tua forza e non temere di manifestarla nel mondo. Con il Manipura in equilibrio, sei non solo un individuo realizzato, ma una luce guida per gli altri, ispirandoli a riconnettersi con la propria potenza interiore. La tua trasformazione non è solo un viaggio personale, ma un atto di amore e illuminazione per il mondo intero. La trasformazione attraverso la consapevolezza del Manipura. Nel viaggio verso l'equilibrio del Manipura, è fondamentale e comprendere l'importanza della consapevolezza e della riflessione interiore. Quando questo chakra è in disequilibrio, la tua vita può diventare una spirale di conflitti e insoddisfazione. Ti senti bloccato, incapace di esprimere la tua autenticità, mentre le emozioni di rabbia e frustrazione ti sovrastano. Ogni giorno può sembrare una battaglia, gli altri ti sembrano critici e ti senti sempre in difesa. Questo è un ciclo che può portarti a prendere decisioni impulsive, ad attaccare gli altri o, peggio ancora, a ritirarti nel tuo guscio, escludendo ogni opportunità di crescita. Il tuo potere personale svanisce, mentre ti ritrovi a vagare in un campo di dubbi e insicurezze. Ma c'è una luce alla fine di questo tunnel oscuro. Quando decidi di affrontare queste emozioni, di osservarle senza giudizio, inizi a intraprendere un cammino di trasformazione. La consapevolezza diventa la tua alleata, un potente strumento che ti permette di rompere le catene dell'autosabotaggio. In questo processo, scopri che la rabbia, invece di essere un nemico, può diventare un segnale di qualcosa che necessita attenzione e guarigione. Ogni momento di frustrazione può essere visto come un'opportunità di crescita, una chiamata a riconnetterti con il tuo potere interiore. Imparare a gestire le emozioni è essenziale. Quando ti trovi di fronte a situazioni che scatenano la tua rabbia, prendi un momento per fermarti. Respira profondamente, permettendo all'aria di riempire il tuo addome, e visualizza la luce gialla del manipura che si espande e si irradia. In questo spazio, riconosci la tua vulnerabilità, ma anche la tua forza. Ricorda che il potere non è solo la capacità di dominare gli altri, è la capacità di dominare te stesso, di scegliere la tua reazione e di agire con grazia e integrità. Per riequilibrare il tuo manipura, puoi anche praticare l'autocompassione. Invece di giudicarti severamente per i momenti di debolezza, permetti a te stesso di essere umano. Pratica l'accettazione profonda delle tue emozioni, abbracciando ogni sfumatura di ciò che sei. Questo atto di gentilezza verso te stesso crea un terreno fertile per la crescita e la trasformazione. Visualizza la tua luce interiore brillare più forte ogni giorno, mentre ti impegni a perdonarti per gli errori passati e a rimanere aperto alle lezioni che la vita ha da offrirti. In questo viaggio di risveglio, il manipura ti invita a riprendere il controllo della tua vita. La tua autenticità diventa la tua arma più potente. Quando il tuo plesso solare è in equilibrio, la tua energia si irradia, attirando opportunità e persone che riconoscono e apprezzano la tua luce. La tua presenza diventa un faro di ispirazione per chi ti circonda. Con il cuore aperto e la mente chiara, riscopri il potere del tuo vero io e permetti al tuo spirito di danzare liberamente nella vita. È in questo equilibrio che la tua vita fiorisce, trasformando ogni ostacolo in una nuova opportunità di crescita e realizzazione. Il ritorno alla luce e l'equilibrio del manipura. Quando il manipura è in disequilibrio, la vita può apparire come una lotta costante per il potere e il riconoscimento. Ti senti intrappolato in un vortice di emozioni negative. La rabbia si accumula come nuvole tempestose nel tuo addome, mentre il tuo senso di autostima si riduce a un filo sottile, pronto a spezzarsi. Ogni interazione con gli altri può sembrare un campo minato, in cui ogni parola, ogni gesto viene caricato di un significato pesante. La tua energia vitale, un tempo brillante e vibrante, sembra ora attenuarsi, lasciando in uno stato di incertezza e vulnerabilità. Può sembrare che le tue capacità siano messe in discussione da te stesso e da chi ti circonda, portando a vivere in uno stato di ansia e disagio. Ma è proprio in questi momenti che risiede il potenziale per la vera trasformazione. Comprendere la propria vulnerabilità è il primo passo per ricollegarsi alla propria forza interiore. Ogni battaglia che affronti è un'opportunità per riscoprire il tuo potere personale. Quando inizi a riconoscere e affrontare la tua rabbia, invece di reprimerla, scopri che essa può diventare una forza motrice, un carburante che alimenta la tua determinazione e il tuo coraggio. La chiave è comprendere che la rabbia, se canalizzata correttamente, può trasformarsi in una passione ardente che ti spinge a raggiungere obiettivi più elevati. Rimettere in equilibrio il tuo Manipura richiede un profondo impegno verso la consapevolezza e l'autoaccettazione. Puoi iniziare a costruire un dialogo interiore positivo, sostituendo il tuo criticismo con affermazioni potenzianti. Ogni mattina, mentre ti svegli, dedica qualche momento alla meditazione, concentrandoti sulla zona del plesso solare. Visualizza la luce gialla che brilla intensamente, assorbendo ogni negatività, ogni dubbio, ogni giudizio. Lascia che questa luce riempia il tuo essere, mentre ripeti a te stesso, io sono potente, io sono capace, io merito il successo e la felicità. Queste parole diventano un mantra che ti sostiene, rinforzando la tua autostima e alimentando la tua forza di volontà. Inoltre, è fondamentale praticare il movimento consapevole, che può includere attività come il yoga, la danza o qualsiasi forma di esercizio che ti faccia sentire vivo. Questi movimenti non solo attivano il tuo corpo, ma liberano anche le tensioni accumulate nel plesso solare, permettendo all'energia di fluire liberamente. Quando il tuo corpo è in armonia, la tua mente si schiarisce e il tuo spirito si rinvigorisce. Riconoscere il tuo valore e abbracciare la tua essenza autentica ti porterà a sperimentare una vita piena di opportunità, dove ogni passo è guidato dalla tua luce interiore. Riconnetterti con il tuo Manipura è un viaggio di autoscoperta che richiede pazienza e dedizione. Abbraccia ogni sfida e ogni emozione come parte di questo processo. Quando ti permetti di essere vulnerabile, quando accetti i tuoi limiti e li trasformi in punti di forza, scopri un potere che va oltre il semplice desiderio di affermarti. Diventi un faro di luce per gli altri, ispirandoli a riscoprire il loro potere personale. Ogni giorno ti avvicini di più all'armonia, alla realizzazione e alla vera essenza di chi sei, brillando come un sole luminoso nel cielo della tua vita. Il potere di riconnettersi con il Manipura. Abbiamo intrapreso un viaggio profondo attraverso il Manipura, il chakra del plesso solare, esplorando il potere personale e la forza di volontà che dimorano dentro di noi. È un viaggio che ci invita a guardare dentro, a confrontarci con le nostre paure e le nostre insicurezze. Abbiamo visto come un Manipura in disequilibrio può portare a emozioni tormentate e a conflitti interiori, rendendoci vulnerabili a sentimenti di rabbia e bassa autostima. Ma ogni sfida che abbiamo affrontato è stata anche un'opportunità per la trasformazione, un invito a riscoprire la nostra luce interiore e il nostro potere autentico. Rimettere in equilibrio questo chakra richiede una pratica consapevole e una profonda accettazione di noi stessi. Attraverso la meditazione, l'affermazione positiva e il movimento consapevole, possiamo riattivare la nostra energia vitale, lasciando che il calore e la luce del Manipura riempiano il nostro essere. In questo processo non solo ci riconnettiamo con il nostro potere personale, ma diventiamo anche ispirazione per gli altri, mostrando loro che la vera forza risiede nella vulnerabilità e nell'autenticità. In questo momento di riflessione, ricordiamo che siamo tutti parte di un grande tessuto di esperienze e che ognuno di noi ha il potere di influenzare il mondo intorno a sé. Con il cuore aperto e la mente chiara, possiamo abbracciare la nostra essenza, trasformando ogni ostacolo in una nuova opportunità di crescita. La luce del Manipura è sempre con noi, pronta a guidarci verso una vita di realizzazione e abbondanza. Se questo viaggio ti ha ispirato e hai trovato valore nelle parole condivise, ti invitiamo a unirti alla nostra comunità. Whispers of Wisdom è qui per accompagnarti in questo cammino. Iscriviti al canale, attiva la campanellina e lascia un like per supportarci. Non dimenticare di commentare e condividere i tuoi pensieri e le tue esperienze. Insieme possiamo creare un ambiente di crescita e supporto reciproco. La tua voce è importante e il tuo contributo può fare la differenza. Grazie per aver condiviso questo momento con noi. Il tuo potere personale è una luce che può brillare intensamente. Abbraccialo e lascia che illumini il tuo cammino e quello degli altri.